Ben trovati ad una nuova puntata di Buongiorno Unasca, abbiamo parlato tante volte di ragazzi che sono iper tecnologici, iper connessi, dobbiamo insomma riuscire a parlare ai nostri figli, ai nostri ragazzi, anche a quelli della scuola di educazione stradale e ci sono sempre più metodi per farlo e format anche innovativi. Oggi ne parliamo con il segretario nazionale dell'autoscuola Unasca Emilio Patella, buongiorno. Buongiorno. E poi con Alessandro Invernici che è un giornalista e ideatore di questo format innovativo che si chiama Ragazzi on the Road. Buongiorno. Buongiorno. Allora io partirei da proprio il format, intanto vorrei capire il perché è nata insomma questa idea, molto interessante perché poi lo capiremo meglio, insomma è un format veramente innovativo, quindi perché questa decisione insomma? È unico in Italia ed è unica anche questa opportunità che ci offre appunto Unasca a cui diciamo grazie, diciamo grazie anche a Volvo Trucks che ci ha voluti a bordo insieme in questa campagna nazionale Stop Look and Wave sulle strisce pedonali, strisce pedonali che abbiamo in tutti i centri abitati, che attraversiamo e alle volte non guardiamo nemmeno, perché siamo attaccati ai cellulari, agli smartphone, ecco crediamo che insieme si debba e si possa fare veramente molto in tal senso. E questo format Ragazzi on the Road nasce 11 anni fa appunto sulla strada, da qui il nome appunto on the road, da un incidente stradale. Bene, cosa facciamo da 11 anni a questa parte? Portiamo e facciamo vivere una sorta di mininaia, due settimane sulla strada, studenti over 18, quindi sia studenti delle scuole secondarie e secondo grado che universitari, e li mettiamo nei panni della polizia locale, delle forze dell'ordine e dei soccorritori, quindi in pattuglia, sull'automedica, sulle ambulanze, sull'eliambulanza, nella shock room, a stretto contatto con la realtà. Certo, le prediche, lo sappiamo tutti oggi, voi genitori che ci seguite in modo particolare non bastano, e allora cosa ci siamo detti? Meglio che la realtà, meglio che questo schianto, la realtà non esiste. Bene, certo è crudo, fa venire la pelle d'occa, lascia il segno, però ragazzi cambiano, e quindi dai pregiudizi passano ad una consapevolezza veramente vissuta sul campo, appunto grazie a loro. Vivono una giornata da sindaco, una giornata da procuratore, una giornata da questore, insomma quindi iniziative che vogliono veramente trasmettere in modo pratico e concreto quella che è la realtà, i rischi annessi e connessi alla strada. Quindi il fatto stesso di poter insieme a Unasca e a Volvo Trax trovare il modo di insieme agire, perché oggi bisogna sempre più fare squadre, bisogna sempre più avere questo contatto con la realtà. Anche perché non sono affatto simulazioni, cioè nel senso che questi ragazzi effettivamente vivono, immaginatevi appunto un 19enne, un 20enne, insomma che entra, sale su un'ambulanza, insomma vive davvero quello che significa anche tutto il lato dell'emergenza, tutto il lato del controllo su strada, perché subisco un controllo, perché in realtà la finalità è quella appunto di evitare incidenti, incidenti gravi. Quindi devo dire un format veramente molto molto innovativo. Una domanda d'obbligo, come sta andando insomma a questi anni? Qual è appunto la reazione? Mi diceva appunto che questi ragazzi cambiano. Cosa succede? Da un giorno all'altro magari? Cambiano, nel senso che nelle autoscuole si insegnano elementi sicuramente di prevenzione, di sicurezza, dell'indossare la cintura, del mettersi al volante con le due mani, sul volante e non al cellulare, ma sappiamo anche che il cellulare salva in qualche modo a corce tempi del soccorso, perché esiste un'app, noi siamo testimoni all'Initalia, abbiamo coinvolto centinaia di giovani in questi anni, testimoni dell'1-1-2, del numero unico d'emergenza nazionale che sta sorgendo un po' in tutte le regioni d'Italia e quindi il fatto stesso di poter promuovere anche l'app Salvavita, Where Are You, che nasce proprio in Regione Lombardia e che di fatto è divenuta di proprietà dello Stato, questo progetto di fatto, per rispondere alla domanda, sta andando in questa direzione, cioè dell'esportarlo in più province, in più regioni e di accompagnare appunto la nascita delle centrali uniche di risposta. Quindi il fatto stesso di poter creare ponti con un'ASCA, con un Volvo Trax, per noi è motivo non solo di soddisfazione ma di crescita insieme perché noi tutti possiamo fare concretamente qualcosa sempre più attraverso la realtà. Ecco, segretario, abbiamo parlato di ponti, quindi abbiamo citato ovviamente un'ASCA, Unione Nazionale Autoscuale Studi di Consulenza Automobilistica e ovviamente le autoscuali effettivamente parlano ai guidatori del domani, quindi volevo capire il perché in questo caso di queste collaborazioni, siamo sempre nell'ambito ovviamente dell'educazione alla strada, però un po' particolare perché appunto siamo nella fascia dei giovani e giovanissimi. Certo, beh, dovunque c'è sicurezza stradale, educazione stradale ci sono le autoscuole. C'è un'ASCA come associazione ma oggi parliamo delle autoscuole, siamo in un'autoscuola, non a caso. Il problema che abbiamo sempre avuto come autoscuole è dare una formazione più completa possibile, ma c'è sempre mancato il trade union tra la teoria, ciò che simuliamo anche con filmati, simulazioni in 3D, oggi abbiamo gli occhiali tridimensionali, realtà virtuale che entra in autoscuole, ma ripeto è sempre virtuale. Loro fanno un'esperienza molto concreta, cioè prendono i ragazzi e li portano sulla strada insieme alle forze dell'ordine. Io credo che questo sia un passaggio, non dico obbligato, ma sicuramente molto interessante. Certo non lo potranno fare tutti, però noi ci associamo a questa iniziativa, promuoveremo dentro le autoscuole questa iniziativa, perché poi c'è un aspetto che forse non è stato sottolineato. I ragazzi che fanno questa esperienza cambiano, ma i ragazzi che fanno questa esperienza diventano a loro volta dei testimonial con i loro compagni, nella loro classe, dovunque loro sono e diventano in qualche modo un elemento di trasmissione, quella famosa cultura di sicurezza che noi tutti i giorni qui dentro cerchiamo di portare avanti. Va bene, allora io devo dire, vi devo intanto ovviamente ringraziare per aver spiegato benissimo questo progetto, quindi ringrazio ancora una volta il segretario nazionale dell'autoscuole Emilio Patella, Autoscuole Unasca e Alessandro Ivernici. Io direi a questo punto un grandissimo in bocca al lupo per il proseguo di questa iniziativa e quindi buon progetto ancora una volta on the road. Grazie, speriamo che anche chi ci segue quest'oggi possa magari interessarsi e potersi fare avanti. È nata un'associazione in questi anni che si chiama Ragazzi on the road, ci trovate sui social, ci trovate insieme ultimamente su queste iniziative appunto molto sinergiche, quindi penso l'invito segretario sia veramente per tutti. Mettersi in gioco e anche tanti genitori che magari vogliono venire a provare a vedere che cosa succede veramente sulla strada ve lo possono fare on the road insieme a Unasca. E così noi ci salutiamo invitandovi a commentare anche i nostri ovviamente i nostri video e abbiamo come sempre attivo anche un numero per contattarci via WhatsApp che è 329 10 70 560. Siamo qui ovviamente tutta la redazione per rispondere alle vostre domande ed è tutto e quindi ancora una volta buona guida a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.